Nel 2014 ho lavorato sul territorio di Ustaramanna, Sidi, Durri e Dottibidasa, nel 2020 ho lavorato sul territorio di Ustaramanna e ho deciso di lavorare su questa lingua. Non è che sia un bravo, un'era, 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 un'era. Adesso ho domandato a tutta questa gente che si potrebbe dare risponde, di spavendo such of them, plastisme, anninas, anni e nu podete così che ci tenaccia appearance ad questa terra nostra e specialmente a tutti si vuole spaziali a la provincia. Poi la cosa bella di tutto questo lavoro è che ogni anno si premia da un'associazione nazionali che venivano alla scuola e spesso che erano già da 4 anni andando in Toscana per ritirare questo premio, che è il premio nazionale che si va a pregiare il R.C. e che ogni anno si premia una cosa speciale, se hanno passato per esempio se hanno premio questa storia della seconda guerra e questo lavoro si poteva fare questo che è il comune su, desiderio, saramanna, turri e finché se hanno passato dell'una matrona, stai giù, tassi, ho andato un pochetto di dinamico e poi c'è potevo via il picciocchetto su a chianciano questa vita per fare le mie azioni. E' un altro bello che dono la soddisfazione meta. Io mi sono preparata alla scuola del Blasco Ferrer che è un anno, è uno dei che mi sprumano su me questa lingua statra, che è me il suo studio per questa lingua statra. Eh no, io non sono d'accordo. E' intanto si va a fare questa pregunta. Sento che sta proprio a scuola? No, ma non sono di questione ne manco. Grazie. 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 Grazie.